bestemmi cerco di non farlo non è una cosa che mi piace fare anche perché io sono credente una volta che mi abbiamo parlato di questa cosa pare pare un controsenso no però una parola può scappare no anche il papa ha detto non vuol dire che ha sdoganato la bestemmia il papa naturalmente non travisato però ha detto che arrabbiarsi con dio è una cosa che no è comprensibile poi io penso la vedo un po al modo che tutte le religioni alla fin fine secondo me portano la stessa la stessa cosa e non penso che ci sia un dio diverso per ognuno che abbiano ragione i cristiani piuttosto che un altro io penso credo che ci sia qualcosa però non credo che sia arrabbi se dici una bestemmia sinceramente però in ogni caso non bisogna farlo per rispetto delle altre persone secondo me non bisogna farlo per rispetto e anche per educazione perché comunque vuoi o non vuoi è una cosa che viene vista molto male quindi perché devi essere ribellino in quel modo no non c'è motivo di farlo quindi sinceramente preferisco non farlo specialmente in pubblico in pubblico assolutamente no in privato se parte scappa non dovrebbe scappare comunque secondo me però cosa vi devo dire vai in chiesa in passato ci andavo ultimamente no ma non perché non ci vorrei andare anche perché devo dire che secondo me può anche se dipende dalla parrocchia però può essere anche un bel ambiente non ho più tempo è brutto da dire però non ho più tempo di farlo al momento non ho però insomma magari in futuro qualche volta ho pensato anche qualche volta mi sarebbe piaciuto fare tipo una sala internet nella poi in una parrocchia che magari ho frequentato no e ho pensato che poteva essere una cosa carina poi c'è stata tutta la cosa del covid quindi non non se ne è fatto più niente però potrebbe essere una cosa simpatica secondo me no creare una sala dove i bambini e i ragazzini possano giocare no gratuita lì in parrocchia io penso che ci possa stare sono convinto che sarebbe anche una cosa gradita questa poi è successo tutto il casino del covid quindi non è stato più fattibile niente però era un'idea che avevo secondo me poteva essere carina ti vorresti sposare ma è ancora ma siete fissati eh questa cosa ma un giorno sì 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 quando mi sposerò lo saprete anche voi va bene lo sapranno e poi lo saprete voi d'accordo una volta ho bestemmiato però non sapevo manco il significato ma sì ma alla fine secondo me ultimamente si dà tanto peso alle parole troppo forse no perché le parole sono importanti per carità eh però il significato che c'è dietro la parola dovrebbe essere più importante no della parola stessa perché è il fulcro invece ultimamente negli ultimi anni si dà tanto peso alla parola e poco peso al significato che c'è dietro ci sono parole che hanno no una grande pensate alle alla n word e a tutte le parole che non si possono dire no perché non si può dire una parola perché offensiva ok è offensiva ma è offensiva perché non per la parola in sé è offensiva perché qualcuno che la dice vuole offenderti perché io ti posso dire anche che sei un nasone ok boh che ne so oppure sei un bell'uomo però se io ci sto intendendo un'offesa io posso intendere un'offesa dietro ogni parola posso dire ma sei proprio sei proprio un bell'uomo mi fai bobo schi cioè capito te lo sto dicendo in modo dispregiativo qualsiasi cosa come anche posso dirti scherzando una parola so che tu non ti offendi per cui non ha senso bandire le parole secondo me ha senso bandire l'odio quello certo però l'odio si nasconde dietro qualsiasi cosa anche dietro una parola gentile può nascondersi l'odio e pensate quando qualcuno vi fa un complimento finto e vi dice ah sì è bravo no sai quante volte a scuola prendi un voto alto lo dici a qualcuno bravo lì dietro c'è c'è un po di un po di invidia no eppure non è che ti sta dicendo ah fai schifo merda no ti sta dicendo bravo ma vabbè ci si perde a parlare di queste cose ma secondo me va bene comunque poi la parolaccia ragazzi sulla parolaccia in generale no la parolaccia si si fa tanto no anche i genitori a volte esagerano secondo me si vieta la parolaccia no non lo dire non lo di non lo devi dire si dà potenza alla parolaccia così no più tu dici non lo dire no te la vieto più quella cosa diventa potente se fosse sdoganata uno dice vabbè è una parola come un'altra non la direbbe più nessuno la parolaccia no perché ha potere però è la bestemmia la stessa cosa è la bestemmia è così potente perché proibita è un meccanismo umano semplicissimo no è comprensibile che ci sono persone che la usano la usano perché è proibita perché da un questa sensazione in più rispetto a una parolaccia normale a noi in italia specialmente perché qui in italia è proprio un tabù quindi secondo me andrebbe dalle parole andrebbe tolto questo potere no perché se tu le proibisci togli il potere se non le proibisci togli il potere che hanno quindi proibirle non serve a molto è un esempio per la società non penso proprio perché anch'io commetto un sacco di errori quindi non vi preoccupate che non è vero però davanti a voi cerco di dare i miei due centesimi per farvi comprendere qualcosa magari no può essere che qualcuno ha uno spunto di riflessione su quello che io dico è già così basta poi non è che dovete essere d'accordo per forza con quello che dico grazie a tutti